Finalmente si parte, dopo l'andamento lento della precedente amministrazione comunale, l'attuale giunta a Muscati in pochi mesi dall'insediamento è riuscita a bruciare tutte le tappe e a attivare una vera e propria rivoluzione per l'igiene ambientale. Lo sostiene il consigliere comunale di Riavia Vittorio Giuseppe Scuderi. L'amministrazione comunale d'altronde, continua Scuderi, sta mettendo in campo una massiccia campagna di comunicazione per fare in modo che tutti siano messi nella condizione di differenziare. Si comincia, come è noto, lunedì da scoglite, dopo un mese si proseguirà con vittorie. Sono certo che i vittoriesi non vedono l'ora di poter procedere al passo con il resto delle città più evolute sul fronte ambientale. Abbiamo pertanto una grossa occasione e dobbiamo cercare di non sprecarla. Sono convinto, rimarca ancora Scuderi, che con un pizzico di attenzione e con un po' di buona volontà, già alle prime rilevazioni, potremo comprendere come il trend sarà assolutamente positivo. Allo stesso tempo il consigliere comunale vuole dissuadere in maniera preventiva coloro che pensano di poter risolvere la situazione abbandonanti i sacchetti della spazzatura fuori città. Così si rischia di procurare un danno sia all'ambiente che alla stessa collettività in cui si vive.